...che ci hanno ritenuto validi al momento e se strada facendo apriranno della possibilità di rendere questa legge una legge diciamo così civile, noi ovviamente saremo disposti a ritirare gli emendamenti, ma per ora continuano a tenere in piedi una legge in cui chi vince con i voti prende meno eletti di chi perde senza voti e questo per noi è inaccettabile, a prescindere dalle soglie sbarramento, alte, basse, gli interessi di partito, chi prende più voti deve avere più eletti, chi prende meno voti meno eletti, è semplice ma non per loro.